a prender fuoco quella vicina al ruato no è un camion in sossa porca puttana che sta prendendo fuoco sì c'è l'autostrada ma comunque non ha la parte nostra io avevo antivigili del fuoco però non c'è, è un furgone ducato ma non male che ha sganciato il rimorchio il calore che si sente io io sto da un'altra parte il calore che si sente io